Il mondo è un riflesso di stati mentali ed emotivi. Così come sei, lo è anche il tuo mondo. Tutto nell'universo viene risolto nella propria esperienza interiore. Poco importa ciò che c'è all'esterno, perché è tutto un riflesso del proprio stato di coscienza. Dipende tutto da quello che sei all'interno, perché tutto all'esterno verrà rispecchiato e colorato di conseguenza. I tuoi pensieri e le tue emozioni ricorrenti costituiscono il tuo mondo, e tutto ciò che è presente nell'universo della bellezza, della gioia e della beatitudine, o della bruttezza del dispiacere e del dolore, è contenuto dentro di te. Con i tuoi pensieri crei o deturpi la tua vita, il tuo mondo, il tuo universo. Mentre gestisci i tuoi pensieri, modellerai di conseguenza la tua vita esteriore e le circostanze. Tutto quello che custodisci nel più profondo del tuo cuore, prima o poi si modellerà nella tua vita esteriore, a causa delle inevitabili leggi del cosmo. Un'anima impura, squallida ed egoista, viaggia con un'infallibile precisione verso la sfortuna e la catastrofe. L'anima pura, alturista e nobile, viaggia con la stessa precisione verso la felicità e la prosperità. Gli avvenimenti nella vita di ogni essere umano, sia che costruiscano sia che deturpano, sono creati dall'interiorità dell'individuo. Tutto ciò che siamo è il risultato di ciò che abbiamo pensato. Esso è fondato sui nostri pensieri, si compone dei nostri pensieri. Così ha detto il Buddha, e ne consegue che se un uomo è felice, è perché egli dimora in pensieri felici, se è miserabile, è perché egli dimora in pensieri sconfortanti e debilitanti. Sia che una persona sia timorosa o intrepida, sciocca o saggia, turbata o serena, in quell'anima risiede la causa del proprio stato. E ora, mi sembra di sentire un coro di voci esclamare, ma davvero intendi dire che le circostanze esteriori non condizionano le nostre menti? Non dico questo, e sono consapevole che si tratti di una verità infallibile, le circostanze possono solo condizionarti nella misura da te concessa. Sei influenzato dalle circostanze perché non hai una conoscenza corretta della natura, dell'uso e del potere del pensiero. Tu credi che le cose esteriori abbiano il potere di creare o deturpare la tua vita, comportandoti così ti sottometti a quelle cose esteriori, confessi di essere il loro schiavo, e che loro sono il tuo maestro incondizionato, facendo così, li carichi di potere che di per sé loro non posseggono, e soccombi. Ho conosciuto due giovani uomini, che avevano perso i sudati risparmi di anni. Uno di loro era profondamente turbato, e lasciò spazio al disappunto, alla preoccupazione e allo sconforto. L'altro, leggendo sul giornale del mattino che la banca dove i suoi risparmi erano stati depositati era irrimediabilmente fallita, e che aveva perso tutto, sottolineò con tranquillità e fermezza. Beh, sono andati, e stare qui a pensarci e a preoccuparci non li riporterà indietro, ma lo farà il duro lavoro. Ritornò al lavoro con un rinnovato vigore, e in poco tempo divenne prospero, mentre l'altro uomo, che continuava a piangere la perdita dei suoi risparmi, e a brontolare alla sua sfortuna, rimase lo strumento di circostanze avverse, in realtà dei suoi stessi pensieri deboli e servili. Per uno, la perdita di denaro fu una maledizione perché egli rivestì l'evento con pensieri bui e malinconici, per l'altro fu una benedizione, perché avvolse l'accaduto con pensieri di forza e speranza, e di un rinnovato impegno. Se le circostanze avessero il potere di benedire o maledire, allora benedirebbero e maledirebbero tutti gli uomini allo stesso modo, ma il fatto che la stessa circostanza possa risultare buona o cattiva a diverse anime, prova che il buono e il cattivo non è nella circostanza di per sé, ma solo nella mente di colui che incontra. Quando inizierai a comprendere questo, inizierai a controllare i tuoi pensieri, a regolare e disciplinare la tua mente, e a ricostruire il tempio che giace nella tua anima, eliminando tutto il materiale inutile e superfluo, e incorporando nel tuo essere solo pensieri di gioia e serenità, di forza e di vita, di compassione e amore, di bellezza e di immortalità, e durante questo processo diventerai gioioso e sereno, forte e sano, compassionevole e amorevole, e bellissimo con la bellezza dell'immortalità. Un uomo non può scegliere direttamente le sue circostanze, ma può scegliere i suoi pensieri, e indirettamente, sicuramente, modellare le sue circostanze. Le condizioni esterne della vita di una persona sono sempre correlate allo stato interiore. Le persone non attraggono ciò che vogliono, ma ciò che sono. Una persona è limitata solo dai pensieri che sceglie.